Sono stati premiati i vincitori della prima edizione del contest Green Innovation Day per l'innovazione sostenibile come vantaggio competitivo. Il premio è stato istituito dal gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Napoli, con l'obiettivo di una cultura d'impresa rivolta all'innovazione. Ad una innovazione che nasce dai giovani e che viene concepita in ottica sostenibile, ad una innovazione che rappresenti per le aziende un reale e concreto vantaggio competitivo. Ascoltiamo Antonio Amato, presidente Gruppo Giovani Imprenditori. Il progetto Green Innovation Day alla prima edizione sarà una di una lunga serie di edizioni che faremo qui all'Unione Industriale di Napoli. è un tema centrale e importantissimo per le aziende del territorio, ma soprattutto è un tema che ci interessa come gruppo Giovani, in quanto chi non fa sostenibilità, chi non innova le aziende, non è pronto neanche per fare un ricambio generazionale. I sei progetti, arrivati in finale e presentati da imprenditori under 40, sono stati valutati da una giuria composta da rappresentanti scelti nel mondo dell'imprenditoria, dell'Università, della Finanza ed esperti di sostenibilità. Ascoltiamo il vicepresidente dell'Unione Industriale Napoli, Giancarlo Fimiani. Per noi è molto importante far crescere la cultura, la cultura aziendale, far crescere tutto il sistema produttivo. La sostenibilità non è solo un concetto etico, è anche una grandissima opportunità che insieme all'innovazione porta le aziende a vedere un futuro molto più ricco di opportunità e crescita. Grazie. Grazie.